Sì, allora buongiorno a tutti, innanzitutto volevo ringraziare la location, quindi Villa Reale, perché mi dà l'opportunità, ci dà l'opportunità di poterci salutare e mi sembrava giusto, dopo tutto quello che si è fatto insieme, poterlo fare di persona, e quindi, visto che non c'è stato il modo, nelle varie vicissitudini dalla fine del campionato ad arrivare oggi, di poterci incrociare, se telefonicamente, se per mezzo stampa, oltretutto davanti alle telecamere, oggi ho voluto prendere l'occasione di incontrarvi proprio per poter esprimere, darvi eventualmente delle motivazioni a quelle che sono state le mie scelte negli ultimi tempi, di poter cambiare, cambiare squadra, cambiare quello che poteva essere il mio percorso professionale, e quindi è iniziato tutto due anni fa, arrivando qua in una situazione veramente difficile, con tutto quello che siamo riusciti a fare insieme, è chiaro che quando parlo di me, l'ho fatto altre volte, parlo del mio staff, parlo della società, parlo della famiglia Sannella, parlo dei vari direttori, da Di Bari a Nember, parlo dei giocatori soprattutto, ai quali do veramente un ringraziamento con il cuore, perché senza i giocatori non si sarebbe fatto nulla, quindi il percorso mio qui a Foggia è stato straordinario, strepitoso per quello che mi riguarda, per quello che la società mi ha dato, nonostante magari qualche contestazione, qualche vaffanculo come poi è successo, però l'ho sempre fatto con la massima onestà professionale, con la massima, diciamo col cuore in mano, perché quando dissi alla prima conferenza stampa, sono nel posto giusto, nel momento giusto, posso dire senza presunzione che sono stato l'uomo giusto per Foggia, e quindi cercando di capirne i pregi, cercando di capirne i difetti, a quando c'era magari malessere, malumore, potevo capire che c'erano 19 anni di frustrazioni, c'erano 19 anni di battaglie non realizzate, e quindi al primo pareggio, al secondo pareggio, questo mi riferisco alla prima stagione, magari c'era qualche mugugno, c'era qualche incidente di percorso, e io mi facevo forza, perché comunque le critiche erano soltanto espresse da chi si portava dietro una situazione negativa, e da chi si portava dietro una situazione che da momento all'altro poteva vanificarsi in nulla, e quindi a testa bassa ho sempre cercato di lavorare, chiaramente per me, per come sono abituato a lavorare, per la città, perché venire qua a Foggia non è una scelta normale, perché Foggia vive di calcio 24 ore al giorno, dalle televisioni ai giornali, a chi eventualmente porta tutte le problematiche familiari, di lavoro, di sociale, riversate allo Zaccheria, riversate al Foggia, e quindi quell'obiettivo raggiunto dopo 19 anni, che equivale alla Serie B, è stata una rivalsa per tutti, per tutto il movimento, per tutta la città, per tutto quello che dicevo poc'anzi. Siamo ripartiti in questa stagione cercando di fare un campionato competitivo, ci siamo riusciti per certi versi sotto l'aspetto del gioco, non ci siamo riusciti nel girone di andata, perché comunque i numeri potevano sembrare negativi o impietosi, nel mercato di gennaio ci siamo rinforzati e credo che questa stagione sia stata culminata da un girone di ritorno strepitoso. Qualità del gioco, giocatori messi in evidenza e quindi valorizzati, e quindi arrivato a oggi credo che sia consentitemi e datemi la possibilità di dirvi che lascio nel momento giusto. Ho sentito dire che mi fa male e probabilmente capisco anche il perché la gente e anche la società ci è rimasta male. Non voglio passare dal traditore, non voglio assolutamente passare da chi lascia in difficoltà la società e se ne va, ma probabilmente sono arrivato al culmine di quello che posso dare e di quello che potevo dare a questa società e a questa città. Credo di aver detto tutto, la mia è soltanto una scelta tecnica, è vero che con i presidenti, con la proprietà, c'era detto, c'era un accordo verbale di poter andare via soltanto facendo un salto di categoria, ma tutte le situazioni che sono create secondo me mi hanno dato la motivazione di poter scegliere altre strade, quindi è soltanto una scelta mia, di lavoro e nient'altro, con il massimo rispetto per tutti, per i tifosi, per voi che chiaramente fate il vostro lavoro al meglio e per la società appunto. Posso? Prego. Vorrei fare un passo indietro, forse nell'ultima o benultima conferenza staffa, a chi ho anche una intervista rilasciata a Tele2 a Toscara, la domanda dice ma l'anno prossimo sarai ancora a Foggia? La tua risposta è stata quasi sorpresa, quasi a dire ma io ho un altro anno di contratto, se la società vuole io continuo, questo è un parola tua. Quindi da Crosinone in Pogli c'è stata questa quasi certezza, sicurezza, che l'allenatore del Poglia fosse strotta, non si sapeva addirittura se fosse il direttore sportivo quello che restava a Foggia, però la certezza era di strotta. Quindi nel momento in cui poi è successo qualcosa, evidentemente quella promessa, non era una promessa sincera, comunque c'erano ancora delle dubanze da parte di tutti, quindi c'è stato poco rispetto nei confronti nostri. Ma era difficile nella tempistica, a livello cronologico, poter dire qualcosa di diverso, perché avrei alimentato dubbi, mi sarei esposto in maniera preziosa, dicendo, visto che poi avevo un contratto in essere, avrei messo di fronte a un dubbio tutti quanti, avrei messo in difficoltà magari la società, e quindi ho cercato di mantenere dentro di me una possibilità, ma in maniera serena. Quindi la comunicazione in quel momento, secondo me, doveva essere quella. Cambia perché cambiano le motivazioni, cambia il modo perché bisogna ricominciare da capo, cambia perché probabilmente qua le mie motivazioni sono venute meno, cambia perché mi sembra di aver detto che lascio nel momento giusto, mi piace l'idea, capisco il risentimento, ma lascio nel momento ideale, perché? Perché probabilmente Giovanni Stroppa non può dare di più di quello che ha dato fin qui. quindi ci sono dei numeri eccezionali, c'è stato probabilmente il ritorno di qualcuno che poteva essere scettico, credo e mi auguro di aver lasciato e di poter lasciare un ricordo positivo, e quindi è una scelta che mi sembra normale, tra virgolette, anche se poi normale non l'è stata, visto che poi c'era un contratto in essere. No, ma non voglio, scusami Mimo, io non voglio star qua a disquisire su quello che può essere le problematiche della squadra dove andrò a allenare, è oggettivamente fuori luogo, nel senso che qua stiamo parlando, che sto facendo una scelta, quindi io ho deciso di prendere altre strade, non siamo qua a discutere quali strade sto andando a prendere, perché nel momento in cui credo di questa continuità o di questa crescita professionale, visto che ho fatto una scelta sportiva e rimane tale, di poterla fare con la massima onestà professionale, discutibile, no, finiamo questa conferenza, mi potreste rimettere in croce come è successo fin qui con la massima serenità, ci metto la faccia, però non sono qui a dire, che ne so, vado al Real Madrid, il Real Madrid arriva dopo il Foggia, è una scelta, se alla fine dell'anno il Real Madrid arriva dopo il Foggia, è una scelta, quindi è una scelta serena, fatta con la massima capacità o ricerca di poter andare a dare una continuità di lavoro, come tale poi mi prendo le responsabilità, perché assolutamente può andare male, come poi poteva andare male la scelta nel momento in cui sono venuto qui, come poi poteva andare male la scelta di continuare qui l'anno scorso, perché l'anno scorso, dopo una stagione irripetibile, per numeri, per record, magari, e qualcuno, forse anche qualcuno di voi, mi aveva consigliato di lasciare nel momento topico, perché? Perché avevo fatto qualcosa che nessuno aveva mai fatto, e allora probabilmente dici, no, aspetta, avevo le motivazioni per poter andare avanti, credevo in quello che poteva essere il mio apporto al lavoro e alla possibilità di costruire qualcosa, sono andato avanti, ne ho avuto ragione, però passando attraverso situazioni davvero difficili, perché quest'anno abbiamo avuto delle vicissitudini importanti, a gennaio eravamo terzi ultimi, alla fine del campionato addirittura a due punti dai playoff, quindi impensabile, a questo punto dico che probabilmente qualcosa in più io non riuscirei a dare. Ha detto che è gratitudine nei suoi controlli per questi due anni, perché è stata orientata nella storia, una storia dalla quale non si esce più, ma i rapporti con Nember sono... Ah, l'ho letto, i rapporti con Nember sono eccezionali, cioè una cosa che, se mi permettete di farvi una critica, ma credo che di solito succede così, ma non solo a Foggia, da tutte le parti, si interrompe un rapporto di lavoro e uno che ha litigato o discusso con qualcun altro, non è così, per me Nember è stato un valore aggiunto, lo è stato nella scelta dei giocatori, di condivisa con me, perché i giocatori nel momento in cui entrano a far parte della famiglia e dello spogliatoio li ho valutati pure io. Quindi nel momento in cui ha fatto un certo tipo di mercato, abbiamo scelto gli uomini giusti, il rapporto si è consolidato, si è migliorato e quindi ho anticipato a lui qualche settimana fa la possibilità di poter fare una scelta diversa e poi ne sono arrivato con la consapevolezza che quella scelta poteva essere la più giusta. Una sorta di domanda precisa lei ha risposto in questa maniera mi ha chiesto di fare ma più o meno le ha visto quanto è da fastidio a lei che ha le spalle in cantina un direttore di sport e lei ha visto questa maniera io non guardo matica dietro di una scelta diversa Per me era la prima esperienza con un direttore sportivo in panchina ma vi posso assicurare non so se lo vedevate massimo rispetto dei ruoli anzi come ho detto prima risorsa poteva essere una risorsa insieme a Brescia e a Guerra nel eventualmente chiedergli cosa avrebbe potuto fare in quel fragente piuttosto che quindi invece di quattro occhi a mia disposizione ne avevo sei La scelta non so mi sembra di averlo spiegato la scelta è solo ed esclusivamente mia grandissimo rapporto con tutti ho letto della delusione da parte di Franco e Fedele Sannella mi dispiace mi dispiace perché so quanto mi hanno dato Nember so quanto mi ha dato ma senza dimenticarmi di Bari nella stagione precedente c'è un rapporto con tutti quanti dalle segretarie segretari a tutti i dirigenti a tutti i componenti del Foggia Calcio straordinario non c'è una persona anche il giardiniere non c'è una persona che posso dire mi ha dato delle motivazioni diverse a parte che l'avrei fatto fuori io ma non 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 ci sono motivazioni di di dissidio o di rapporti nati o o diventati negativi la possibilità concreta purtroppo che poi possa partire con una penalizzazione pesante per scelta e poi vi chiedo ha rescisso ormai il contratto e se lo ha fatto quali sono stati i termini mi rinuncia da parte sua dei monumenti o piuttosto di buon uscita da parte del protone allora per quanto riguarda sono qua a fare una conferenza stampa da solo quindi ho rescisso poco fa quindi ufficialmente non sono più l'allenatore del Foggia per quanto riguarda il discorso economico ho rinunciato ai tre stipendi per quanto riguarda invece la penalità non mi avrebbe spaventato non è quella la motivazione ci sono una serie di motivazioni che ho elencato poco fa probabilmente le mie motivazioni che non sono diciamo ricaricabili rispetto a queste due altre stagioni precedenti sicuramente il fatto di potermi aver annunciato l'accessione dei giocatori più importanti e di aver avuto nella proposta di un ridimensionamento tecnico potrebbe avere influito ma capisco le esigenze capisco le difficoltà della società e quindi non ne do una colpa assolutamente anzi al contrario visto che c'è una situazione oggettiva di difficoltà sicuramente si farà o si cercherà di fare una stagione su quelle che sono le armi in possesso quando è stata operata la scelta della sede di più per i campionati troppo aveva già maturato una decisione per cambiare aria a caccia di nuove motivazioni di una nuova avventura professionale diciamo che ce le avevo dentro di me ma ho cercato di fare le cose come se fossi sempre stato l'allenatore del foggio cercando di poter recuperare quelle energie nervose quelle energie di poter eventualmente continuare il percorso qui e quindi ho nella massima professionalità ho cercato di fare le cose giuste per la società il discorso del ritiro è stato scelto insieme a Nember le date del ritiro sono state scelte insieme a Nember quindi è un percorso che è sempre stato fatto in sintonia col direttore sportivo A me è stato detto che ci sarebbe stata giustamente la possibilità di fare di fare entrare in cassa visti i movimenti di mercato in uscita sui giocatori che magari potevano avere più mercato quindi su questo era palese e probabilmente investire su quello che entrava sul mercato in entrata Senta vi chiedo anche cosa rilascia Foggia a quello che ha detto perché è stato più recalciatore è stata una bellissima stagione del depo nazionale si è rilanciato effettivamente Foggia come tecnico ha conquistato la promozione bellissima ha fatto dei record adesso di chiudo questa parentesi cosa rimane di Foggia quello che io non so è una magia che Foggia mi ha sempre dato e qui io non mi sono mai sentito un allenatore normale c'è qualcosa di più scusatemi ma credo che oggi lo posso anche dire perché non voglio passare da non ho mai voluto fare dichiarazioni d'amore ho mai voluto fare dichiarazioni da sembrare ruffiano o di avere qualcosa in cambio non lo so quando sono arrivato credevo e pensavo di avere proprio per quello che hai detto tu un credito per quello che avevo fatto da calciatore ma non è stato così mi sono dovuto guadagnare tutto però nonostante questo non lo so è la bellezza di volervi bene la bellezza di conoscere pregi e difetti la bellezza di sentirmi qualcuno lo chiama condottiero io mi sono sempre sentito il condottiero davanti a fare scudo per i miei giocatori a fare scudo perché bisognava fare scudo e a mettere l'armatura nel momento in cui bisognava mettere l'armatura e l'ho fatto col sorriso sulle labbra senza mai cambiare il mio modo di essere ma cercando di farmi rispettare ho avuto delle difficoltà all'inizio perché probabilmente il mio modo di pormi e il mio modo di relazionarmi anche con voi era forse non in linea su quello che potevate aspettarvi da un allenatore o dall'allenatore del Foggia però credo che guardandovi poi negli occhi e guardando anche la gente come poi ultimamente mi ritorna la considerazione e la stima che avete imparato a conoscere e quindi anche col sorriso sulle labbra si riesce a fare un lavoro sporco e di questo ne sono veramente orgoglioso orgoglioso perché credo di aver dato consentitemi la presunzione uno stile e quando porti in giro 4.000 persone quando sei riconosciuto e riconoscibile per il gioco per tutto il movimento quindi tifosi società giocatori gioco è motivo di orgoglio motivo di orgoglio che nessuno mi potrà mai togliere e quindi io ho ricevuto tantissimo parlavamo prima dei vaffanculo che ho ricevuto chi se ne frega l'ho detto altre volte chi se ne frega ve lo dico col cuore in mano io vi dico grazie vi ringrazierò sempre perché per me Foggia era prima che diventassi l'allenatore del Foggia qualcosa di speciale e lo è diventata ancora di più facendo l'allenatore quindi non me lo toglierà mai mai nessuno ieri passeggiavo per strada e incontro gente che mi mi fa venire la pelle d'oca perché mi riscontra tutto quello che è stato fatto ed è dispiaciuta perché me ne vado è bellissimo è bellissimo sono dispiaciuto ma vorrei che comprendeste la la scelta che è esclusivamente una scelta tecnica magari la sbaglierò purtroppo come sbagliavo i cambi ho sbagliato magari qualche volta la formazione fa parte della mia vita fa parte della mia vita professionale fare delle scelte quindi oggi ho ho deciso di fare questa scelta io vi ringrazio io vi ringrazio io vi ringrazio volevo ringraziare la mia società perché mi ha mi ha difeso mi ha mi ha mi ha fatto sentire sempre importante e quindi il mio ringraziamento speciale va a a Franco Sannella a Federe Sannella che purtroppo in questo momento ci sono rimasti non male di più però è una scelta che visto come sono andate le cose mi ha portato a portarla avanti fino a fino alla fine fino a a renderla ufficiale io tifosi ho detto molte volte che sono sempre stati il valore aggiunto e l'hanno confermato quest'anno le premesse non erano bellissime perché alla prima amichevole Curva Nord e Curva Sud hanno avuto chiamarle così delle discussioni e quindi si pensava che ci si poteva aspettare un campionato difficoltoso no visto poi quelle che erano le varie vicissitudini che erano successe negli anni scorsi e invece poco fa ho detto stile e lo stile l'hanno dimostrato l'hanno dimostrato perché portare in giro 4.000 3.000 ogni trasferta e avere quella forza quell'educazione quel rispetto delle città e quindi ogni qualvolta si andava in giro a giocare e aprivano gli stadi aprivano le città è orgoglio penso che una tifoseria così non ce l'abbia nessuno avevo detto Champions League ma ne sono consapevole per il calore per il rumore che si respira lo Zaccheria ma anche fuori e quindi devo soltanto ringraziarli una curiosità a un certo punto hai sentito parlare già tutto l'improlungamento c'è qualcosa di vero e se era partito dalla società anche se è vero sì diciamo che il programma poteva essere in sintonia con quello che poteva essere il programma del direttore sportivo o viceversa perché entrambi avevano un anno di contratto quindi il rinnovo all'allenatore non poteva essere fatto in maniera individuale rispetto a poi non portare dietro anche il direttore sportivo e viceversa quindi nel momento in cui si sarebbe scelto di fare la la riconferma quindi il rinnovo al direttore sportivo sarebbe stato fatto poi il rinnovo anche all'allenatore non si è parlato di cifre ma non si è parlato di niente perché non siamo arrivati a quello step c'era un un discorso verbale ed è ed è rimasto tale ma non è a livello proprio cronologico il la motivazione perché si è portati poi da parte mia a scegliere una strada diversa per non aver avuto il rinnovo no 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 io penso che varie situazioni che poi magari no no ma io no ma io non voglio no no ma non voglio lasciare aluni nei confronti di Nember o di Franco Fedele Sannello la scelta è soltanto mia me ne assumo assolutamente la responsabilità e di fronte a situazioni che eventualmente non non mi andavano bene non c'era la forza di reagire nel modo giusto e quindi faccio ripeto per l'ennesima volta faccio questa scelta in maniera credo più obiettiva possibile no ma questa conferenza stampa è di saluti questa conferenza stampa è su quello che è stato fatto su quello che Foggia mi ha dato e su quello che eventualmente io posso aver dato e quindi non mi sembra il luogo adatto per poter parlare di altro no in questo momento ho altri pensieri allora se ti dicessi se ti dicessi di sì poi andremo a strumentalizzare quelle che poi possono essere state le mie decisioni non ti nego che per due anni consecutivi noi abbiamo dovuto cambiare location perché campo d'allenamento perché Amendola era stato abbandonato quindi non non seguito non bagnato non seminato e quindi al ritorno lasciato a maggio in perfette condizioni ritrovato ad agosto senza erba e quindi con la costrizione di andare ad allenarci su altre superfici stranamente forse è coinciso con risultati dell'anno scorso non positivi che l'anno scorso avevamo pareggiato qualche volta quest'anno invece è stato determinante determinante perché nel momento in cui siamo andati a Cerignola sul sintetico cambiando superficie abbiamo iniziato ad avere infortuni importanti poi nel corso di quel periodo arrivati poi alcuni di rinunciare a 11 giocatori nella stessa partita e quindi sicuramente uno degli aspetti potrebbe sicuramente essere questo però so che in questi giorni è stata fatta è stata firmata la convenzione c'è stato hanno preso dei macchinari per poterlo seguire a pieno quindi diciamo che in questo la società la società sta crescendo beh almeno sono servito a qualcosa rispetto a quelli che sono i nomi che stanno circolando tra i papati e i papati quali secondo lei può essere più simile per per continuare il lavoro che lei ha avviato da due anni credo che tutti i nomi che si stanno facendo sono profili veramente importanti sia Oddo che Nicola che Grassadonia mi sembra che i nomi siano questi lo sapete e l'avevo anche appare che con gli altri due non li abbiamo mai incontrati con il Foggia ma Grassadonia secondo me è il profilo credo di sì perché comunque mi piace il suo modo di giocare il suo modo di essere il suo modo di porsi evidentemente il motivo è che il Chiava viene a dover farsi 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 beh ma secondo te Nember mi viene a dire ah bene allora voi lo sapete ok no vabbè Nicola ha dimostrato però probabilmente sono profili anche di categorie diverse va bene grazie grazie a tutti grazie a tutti